Benvenuti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mau, oggi sono qui in un nuovo video che avevo già fatto la scorsa volta Ma è uscito un nuovo concept ragazzuoli, del nuovo pass battaglia della stagione 3 del capitolo 2 di Fortnite Già l'altra volta vi ho portato un bel concept, è andato molto bene, è piaciuto a molti di voi E quest'oggi ragazzuoli, il nostro Tremix, il nostro youtuber Tremix ha creato un altro concept di un probabile pass battaglia ragazzuoli Ci sono veramente cose carine, ditemi la vostra su come potrebbe essere anche il pass battaglia È molto carino ragazzuoli, ci sono molti particolari belli Ditemi che cosa vi aspettate della prossima stagione ragazzuoli Io tra pochi minuti, tra pochi secondi, anzi vi lascerò al video dove vi farò vedere il pass battaglia appunto Ditemi la vostra ai commenti, se vi piace o non vi piace, le vostre idee o qualcosa Ripeto ragazzuoli che questo qua è un concept creato da Tremix Che se volete lascerò il suo canale in descrizione o nella sezione commenti Lascerò il suo canale e anche il video E niente ragazzuoli, guardatevi lascio al video, vi ricordo di lasciare like, commenti, iscrizione Supportarvi nei negozi oggetti con il codice che torre social 3tmo 3t yt E adesso vi lascio alla clip E adesso vi lascio al video 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 E vi lascio al video E vi lascio al video